ciao e bentornati sul mio canale le pin cucina io sono jessica oggi andremo a fare la base per una cosa veramente sfiziosa sto parlando delle mini baguette ma non delle baguette normali seguite il secondo video e vi sveglierò il segreto prima di partire mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like se questa ricetta vi piacerà commentate condividete e attivate la campanella anche per vedere quando uscirà al seguito possiamo partire con la nostra ricetta gli ingredienti per fare questa ricetta non sono tanti e adesso ve li elenco abbiamo 155 grammi di farina di tipo 1 adatta per il pane e per le lunghe levitazioni con già all'interno 3 grammi di zucchero semolato che servirà a dare la doratura alla nostra baguette un grammo e mezzo di lievito madre adatto per le lunghe levitazioni appunto 3 grammi di sale e 150 ml di acqua ma ce ne serviranno soltanto 100 io ne metto sempre 50 in più per le emergenze se l'impasto ha bisogno di ulteriore idratazione l'olio oliva di oliva extravergine ci servirà soltanto al termine dell'impasto e per guarnire e per andare a bagnare la nostra teglia dove riposerà il nostro impasto per 24 ore possiamo partire ad impastare adesso che abbiamo miscelato la nostra farina abbiamo dato modo alla nostra farina insieme al lievito e allo zucchero di liberare l'aria che era all'interno impostiamo la velocità 1 e andiamo ad aggiungere a filo l'acqua andiamo ad aggiungere anche il nostro sale e continuiamo il nostro impasto adesso che il nostro impasto è pronto non ci resta che andare a dargli l'ultima girata come vedete abbiamo ottenuto un impasto veramente morbido non ci resta che chiudere creare la nostra pallina ad agiarla in una ciotola con un filo d'olio e coprirla con la pellicola adesso che abbiamo coperto il nostro impasto con la pellicola non ci resta che coprirla con un canovaccio per ripararla dalla luce e lasciarla fuori frigo per un'ora dopodiché la riporremo in frigo per 24 ore e ci vedremo per la seconda parte del video e vi svelerò il segreto di queste baguette questa ricetta è finita mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un like se questa ricetta vi è piaciuta commentate e condividete ma soprattutto attivate la campanella per la seconda parte del video anche ciao alla prossima ricetta ciao 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 ciao